Se ne andava in giro con un carico di ben 28 chili di hashish nella propria auto. La polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato catanese 27enne Luigi Scuderi per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un mirato servizio di osservazione e controllo del territorio svolto dalla sezione antidroga della squadra mobile etnea è stata individuata un'autovettura sospetta condotta dal malvivente. Immediatamente bloccato, il mezzo è stato sottoposto ad una perquisizione che ha permesso ai militari di scovare e sequestrare, occultati nel cofano posteriore, ben 28 panetti di hashish da un chilo ciascuno. Espletate le formalità di rito, il Corriere della Droga è stato tradotto presso la casa circondariale di Piazza Lanza a Catania e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria.